Ciao a tutti, stamattina ho iniziato a registrare, ho anche registrato l'introduzione alla gita, ma purtroppo il feste è cancellato, quindi adesso sono le 6, ho finito l'escursione e devo riregistrare l'introduzione, ma vabbè, tutta la gita è a posto. Allora, oggi cosa vediamo? Oggi facciamo una passeggiata, durerà mezz'oretta, sarà facile, senza grandi scalate o cose così e vedremo delle cose affascinanti e estremamente interessanti. Dove siamo? Siamo al passo del portello, un passo a 1032 metri che unisce la Val Trebbia e la Val Fontana Buona. Alle mie spalle c'è l'imboccatura del sentiero, non si vede molto ma è alta via perché percorreremo un pezzo di alta via, la tappa numero 28 che va dalla stella della Giassina al passo della Scoffera o viceversa, a seconda di come lo imboccate. Quindi, diamo un'occhiata alla chiesetta e partiamo. Ecco, questa è la cappelletta della Madonna della Neve che si trova esattamente sul passo e come vediamo è ancora in buone condizioni. A questo punto imbocchiamo il sentiero e da prima passiamo in un bosco di noccioli. Poi il bosco si trasforma pian piano, sempre in più, fino a ritrovarci immersi in una faggeta. In questo periodo dell'anno, ovvero fine estate, è facile incontrare varie specie di funghi come ad esempio le amanite, le vesce o se siete molto fortunati anche dei bei porcini. Ok, dopo un po' che avete percorso la faggeta, qua in videocamera forse non si vede tanto bene ma nella realtà ve ne accorgerete subito, alla vostra sinistra si apre il bosco, si intravede un pezzo di prato e delle rocce, una specie di scarpata. Bene, esattamente in questo punto faremo la deviazione che ci porterà a vedere tutta la nostra gita perché se percorriamo ancora il sentiero, arriviamo alla Vagnola attraverso l'alta via che stiamo seguendo, passiamo sempre nella faggeta, vediamo cose bellissime, perfetto. Ma io vi voglio far vedere cosa c'è sul crinale, quindi usciamo dal sentiero. Tanto non c'è problema perché comunque lo percorriamo parallelamente all'alta via, quindi è impossibile perderci. Arriviamo comunque alla Vagnola, però vediamo delle cose estremamente interessanti. Che cosa? Guardate un po' dove sbuca adesso. Guardate che meraviglia dove sono sbucato! Che precipizi! Che meraviglia! Adesso vediamo di cosa si tratta, che cosa sono questi precipizi, cosa sono queste rocce, però godiamoci questo spettacolo, che oltre è ancora migliore. Siamo come su un enorme terrazzo naturale, che ci dà l'impressione quasi di volare. E non è solamente in questo punto, perché la cresta prosegue fino al Brickmontaldo, monte che ci si para davanti, e che anche questo ha delle pareti estremamente scoscese, come possiamo vedere. Su queste pareti trovano rifugio, uccelli come i rapaci, ma anche e soprattutto una colonia di capre selvatiche, che è facilmente osservabile in questo tratto di sentiero, e che riesce tranquillamente a muoversi, nonostante la forte acclività della montagna. Forse vi state domandando, ma da là sopra, com'è la vista? Adesso ci saliamo e lo vediamo. Finalmente in vetta al Brickmontaldo. Siamo a 1136 metri sul livello del mare. Alle mie spalle il crinale, che arriva fino al passo del portello, che in parte abbiamo percorso, e che ci mostra da qui tutta la sua acclività. Già, ma come mai è così scosceso? E soprattutto, se osserviamo bene, sia questo crinale, sia il Brickmontaldo, se ci ricordiamo com'è fatto, notiamo che ci sono queste forme quasi cupolari. Bene, è tutto merito della roccia che emerge in questo punto. Siamo sulle argilliti del Monte Lavagnola. argilliti, quindi rocce che derivano da sedimenti argillitici, che sono i sedimenti più fini che possano esistere. Questo fatto imprime alla roccia che poi si formerà una grande erodibilità, a causa degli agenti atmosferici, dell'acqua, eccetera. Quindi, questo spiega come mai, intanto questi versanti sono così scoscesi, dove il substrato emerge così. E soprattutto perché, dove sempre emerge, le forme sono così arrotondate, perché sono stati gli agenti atmosferici, come il ghiaccio, il vento, la neve, la pioggia, che hanno modellato e arrotondato in questa maniera queste rocce. Adesso vi faccio vedere cosa si vede da qui, perché è altrettanto interessante e affascinante. Abbiamo Torriglia, con il Monte Prelà, e alle sue spalle il Monte Antola. Scorrendo, invece, sempre la catena dell'Antola, della Val Brugnito, il Monte Lesima, la vetta della Val Trebbia. Quel paesino laggiù è Santa Maria del Porto, il Monte Ebro. Sempre il crinale di prima, che anzi ora vi invito a vedere com'è bello, da un lato la faggeta, dall'altro il dirupo più scosceso che si possa immaginare. E ritorniamo a vedere la cinta di montagne, con le cime sempre della Val Trebbia, ma in questo caso quelle alle spalle di Fontanigorda, per cui Monte Gifarco, eccetera. Alle spalle ancora le vette dell'Aveto, laggiù il Maggiorasca, vediamo di metterlo a fuoco. E scorrendo ancora un po' il profilo caratteristico del Monte Aiona. È inconfondibile ed è visibile da quasi tutte le postazioni in cui io sono stato. Scorriamo ancora. E vediamo il Monte Ramaceto. Purtroppo oggi c'è un po' di foschia, quindi non si vede perfettamente. Quello è il Monte Caucaso, su cui presto faremo un'altra gita. Vediamo se si riesce a vedere abbastanza bene. Direi che sì. Eccoli. Quello è il Promontorio di Sestri Levante. E dietro Punta Manara. Perché quello è il mare. Infatti se io ruoto ancora, il Monte di Portofino è Punta Chiappa. E poi ecco la cresta su cui adesso continueremo a passeggiare. Se la verticalità non vi è ancora bastata e soprattutto se non soffrite di vertigini, ecco, in inverno o quando è bagnato, non venite fino al margine. O meglio, se volete farlo, fatelo pure, ma è a vostro rischio e pericolo, perché guardate, il volo qua ci si ammazza, eh. Detto proprio schietto. Ormai manca poco. Eccola la lavetta della Vagnola. Sbucchiamo in questo prato quasi pianeggiante. Però ecco, prima di fare l'ultima salita, che in realtà è un po' tosta, ma è corta per fortuna, vi do ancora un'informazione velocissima. Qui vedete il sentiero che sta dentro nella faggeta, in direzione al passo del portello. È l'alta via, quindi per tornare indietro, se non volete ripassare dal crinale, basta imboccarlo, nel senso contrario a cui siamo venuti, e tranquillamente si arriva all'alta via. Sì, al passo del portello. Io ora però proseguo, perché la nostra meta è quella. Finalmente lo vediamo da vicino, il Cippo in vetta al Monte Lavagnola. Abbiamo raggiunto 1118 metri sul livello del male. Quella lapide ci ricorda che è stata posta a memoria dei soci del Cai Ligure che sono caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Sempre sull'iscrizione c'è scritto anche perché è stata messa qua questa lapide. Perché qua, come anche più in giù al passo della Scofera, si combatte nel 1747 a difesa della Repubblica di Genova. Difesa contro l'attacco degli Austriaci e dei Savoia. Qui in vetta c'è un tavolino in cui si può pranzare. E quella panchina. Da questa panca, che sovrasta la Val Fontana Buona, abbiamo una visione eccezionale che va dal Monte Aiona, dal Monte Caucaso, il promontorio di Sestri Levante. Ma nelle giornate limpide arriva anche fino alla Corsica. Ma non solo, sempre quando le giornate sono limpide, verso Ponente, si riesce a vedere il Cervilo. Quindi dobbiamo ringraziare il Parco dell'Antola che ha posto questa panca in questa posizione panoramica. Quindi, sulla Vagnola, dal passo del Portello, in una mezz'oretta ci si arriva. È una semplice scampagnata quasi. Basta non camminare proprio sul ciglio, o meglio, se volete farlo, fatelo, però... Non so, se avete istinti suicidi, ecco, potete farlo, se no, meglio non farlo. E arrivate qua alla Vagnola. La Vagnola può essere raggiunta anche dal passo della Scofera, seguendo l'alta via, oppure la Torriglia, seguendo il sentiero dell'Anello di Torriglia, che è un sentiero del Parco dell'Antola. Questi due sentieri poi li faremo, ve li farò vedere come ci si arriva. Però diciamo che dal Portello è il più breve, mezz'ora, 40 minuti, siete qui. Poi, quando siete qui, vi sedete su questa bella panca, e se la giornata è più limpida di oggi, perché oggi c'è molta foschia, vi sedete e ascoltate i suoni della natura, guardando questo enorme scenario che vi si ripara davanti. Direi che a questo punto, quello che dovevo dirvelo, ve l'ho detto. Quindi possiamo chiudere il filmato così. Io, come al solito, vi ringrazio. In descrizione metterò, come al solito, tutti i vari link per Facebook, per il mio sito, come al solito, ringrazio tutti i fan, tra virgolette, che però in realtà io considero amici, che mi seguono e mi supportano. Alla prossima!